Molto veloce LA GARRRA Gagliardua Ecco L'ultima parola alle riserve Gagliardua Quelli che non giocano mai Ma che dubbietta ha fatto Ma di cosa stiamo parlando Di cosa parliamo Dominante cosa Dominante Ma sono tutti differenti sti giocatori Differente Tutti Posta di chi giocava Di vecino Vecino No non l'ha ripresa Vecino E' decisivo anche quando non gioca Ma che è vero Tipico degli uruguayani E' un giocatore differente Ma lo capite o no Ma lo capite o no Calma Ma che gol ho fatto Ma che gol ho fatto Ma che gol ho capito Dominante Ma che cosa Che cosa Ciccio Caputo Ciccio Caputo Si Ha fatto un gol Si Stato la Juve ha punito anche il Napoli Si E' straordinario Si E' un fenomeno Ciccio Caputo Ciccio Caputo Si Ave Ciccio Ciccio Caputo Posso Caputo E' un fenomeno vero Si Caputo arriva prima si oh mamma no vabbè mamma che roba cosa è successo fantastico amore mia moglie sto preparando il pranzo di oggi eh cosa fa guarda come mescola la pentola il polso ruota come quello di Michael Jordan eeeh attenzione è caduto no no che schifo hai preso il raviolo che cadeva ma di cosa stai parlando e lei l'ha ripreso l'ultima parola mia moglie guarda come condisce il sale il sale che graffia che rende saporito il raviolo ma è fantastico la lasciamo al raviolo grazie a Dani la ringraziamo l'ultima parola mia moglie prego prego io 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 io